La politica adesso può comportarsi come si è comportata finora, alla luce della consapevolezza che tutto può essere molto più celere, come ci diceva il nostro scienziato prima. Si può essere così disponibili a condonare? Io poiché mi sono opposto in Parlamento sia nel 94 che nel 2003. I condoni che tra l'altro li proponeva il centrodestra e Berlusconi, quindi se oggi addirittura Forza Italia critica significa che c'è qualcosa che sta cambiando. Però quello che dico è che, faccio un esempio, prima abbiamo visto la casa, il dramma che è successo in Sicilia. Io sono stato con l'allora sindaco, era Enzo Bianco, sindaco di Catania, come ministro dell'ambiente a cercare di sostenere la demolizione delle case che stanno costruite dentro il fiume Simeto, che è il fiume della zona di Catania. Si partì con una serie di demolizioni, poi con una serie di amministrazioni diverse, io credo che quelle demolizioni anche là sono ferme. Allora ci sono Ischia, io appena divenne ministro ci fu una tragedia Ischia, dovete andare in elicottero a vedere, a visionare e cercammo di restringere le posizioni dicendo che una cosa è, e l'ho detto anche prima, una cosa è l'abuso, tra virgolette, che viene chiamato di necessità, eccetera, una cosa è che hanno costruito interi palazzi e villaggi abusivi. Noi riuscimmo a demolire a Casal Nuovo un intero villaggio abusivo costruito e siamo riusciti a demolirlo, quindi non è vero che non si può fare. Almeno le zone a rischio vanno demolite queste cose. E spero, scusa, che nel decreto, visto che va ancora al Senato, poiché anche il ministro dell'Ambiente Costa ha manifestato delle perplessità, si possa ancora intervenire per restringere ulteriormente le maglie di questa decisione.